Un miliardo per lo sport di base, il Partito Democratico chiede al Governo sforzo immediato già a partire dal decreto sostegni bis, lo fa con il numero 1 Enrico Letta, che parla di un settore dimenticato dalla pandemia perché ha torto, considerato superfluo. E con Mauro Berruto, responsabile dello sport del partito, viene ribadita la necessità dell'introduzione della parola sport in Costituzione, un tema su cui l'ex Cd della Palavolo sta lavorando anche con alcuni costituzionalizi e su cui, parola di Letta, si deve andare avanti senza pensare a mettere la propria bandiera sulla questione. C'è poi il tema della riforma del lavoro sportivo e dei altri legati spadafora rinviati addirittura al 2024. Va tipizzata, dice Berruto, non si possono mettere insieme l'oratorio e il professionismo, apriamo subito un tavolo e anticipiamo almeno alla fine della legislatura entrata in vigore. Dobbiamo evitare altri casi come quello di Lara Luigli, aggiunge l'ex ministro Giuseppe Provenzano. La pallobolista che martedì sarà costritta a presentarsi davanti al giudice dove essere stata citata per danni dalla società per essere rimasta incinta. La proposta del PD è di arrivare presto alle tutele e di aiutare le società sportive a trovare l'equilibrio, ma soprattutto la sostenibilità.